WENDER L'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano, sentite. A WENDER è scattata la molla nel cervello, estrapolare le voci dallo scherzo dei tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny. Quale casa, mi perdoni? No, io mi chiamo Francesco Milano. Come? Io produco olio, olio di origine protetta. Mi perdoni, da me che cosa vuole? Io produco olio di origine protetta. E quindi? Eh, non lo so, devi sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Mi perdoni, non si crede che sta parlando, perché mi sa che ha sbagliato numero. Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Sì. Pronto o no? Eh, sì. Io sono il proprietario della casa. Non credo proprio della casa dove vivo io, è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio. Settito o no? Pronto? Sì, pronto. Il numero di chi è suo? Eh. 335. È sbagliato, ho già sbagliato un po' dall'inizio. 6-3. 3-3-5. 6-3. 6-3. 6-3. 5-7. 1-5-9. Che salame. Bingo. La sento malissimo. Eh. Non sto parlando. Pronto? Pronto? Adesso mi sa che l'ha capito. Sì, mi dica. Per chiamare, non ho capito. Adesso l'ha capito. Andy... Non lo so. Seconda chiamata, Stefania Nois. Minchia. No! No, tua moglie no! Pronto? Pronto? Sì? La sento malissimo. Dica! Pronto? Dica! Non so, io non riesco a sentirla. Pronto? Mi richiami su questo numero, per favore. 335. No, no, io non posso chiamarla. Sono per strada. Non ho da scrivere. Se ha bisogno, mi richiamai la EI. Settito o no? Aiaia! Terza chiamata. Sempre Stefania Nois. Pronto? Pronto? Dica! Io produco olio, olio di origine protetta. E a me cosa me ne frega? Io produco olio di origine protetta. E a me che cosa me ne frega? Non lo so, devi sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protesta. E a me cosa me ne frega? Mi richiami su questo numero, per favore. No, lo chiamo, non riesco a scrivere. Tre, tre, cinque. No. Sei tre. No. Sei tre. No. Pronto? No. Non so, io non riesco a sentirla. Wender, io ti ammate di pugni in faccia. Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese chicca. No, la chicca. Si chiamala, la bastarda. Pronto? Sì? La sento malissimo. Pronto? Mi sente? Non so, io non riesco a sentirla. Pronto? Senta. Mi richiami su questo numero, per favore. Tre, tre, cinque. Ma lo ha chiamato lei, la devo richiamare io, mi scusi, ma chi è? Il numero di chi? Suo? No, mi ha chiamato lei. Tre, tre, cinque. Sei, tre. Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno. Chi fa? Chi è lei? Io sono il proprietario della casa. Non so. Quale proprietario? Quale casa? Ma chi cerca lei? Io produco olio. Olio di origine protetta. Sì, e quindi chi cerca lei? Non ho capito. Io produco olio di origine protetta. Vabbè, arrivederci. Salve, buona giornata. Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Nel prossimo Wenderland. Nel prossimo Wenderland. Tre, tre, cinque. Tre, tre, cinque, sbaffanculo. Io sono il proprietario. Ti chiami? Non so, io non riesco a sentirla. Non riesci a sentirmi? Prossimamente nel Wenderland. Bellissimo. La chicca, io voglio sentirla a fine della chicca però perché secondo me non è finita lì. La chicca si incazza la chicca. Madonna. Io ho visto Wender senza testa oggi, per favore.